Sotto i vai d'oggio si cammina a passi sicuri senza brissarsi. Portano a somma stivustanichesi e pesa il biombo. Sti materiali di legno e medale sono arrivati a un tetto. Quello di una casetta in Egamperunace, un stazzo, in due li travagliano di poi un anno già. Abbiamo regolato i muri, abbiamo muovato la razza, abbiamo muovato l'intempiamento, aspettando di bene ho detto ciò che mi aveva oggi. Abbiamo messo tutto a livello come qui, abbiamo muovato tutto. Abbiamo muovato una parte alla secca e poi di nuovo un'altra parte che aderra il luogo. Come li vengono. Nanzi, ed i buoi segoli campavano i pastori. L'ultimo, i vredeli ruggieri, sono stati i dombin dell'anni settanta in questa casetta. Se come si sa i quelli che l'anno conosciuti, vediamo il luogo di biglia fiato. Mi stigna il cuore di avere tutti questi giovani che li facciano un ostazzo, perché vogliono che le ha causato questa disgrazia a questo, questa affare. E io capito subito che sentiamo più Tintendole di Capri, che una vita si è spenta, una montagna c'era una vita. Tintena, Berraoa, un sinesante mica. Ma giungi alla retia, un ganto e una montagna appena costruida, un rimorio, i larnesi, ed è risa di gli amici che preparano il spuntino. Ecco, il progetto di la socio gardone qui. Fa ne d'orna un luogo di vede spartire. Mi avete visto appena i unti. Giungi subito a farmi l'appetito di montagna. Giungi subito. E tanto era così. Quell'anno i pastori, quell'anno le gente che promenano, turisti. C'era appena di tutto. Era una promenata lì. Dovissette. No, no... Pro primo vantieri rigu dando un gagio. No. 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 No, no, No. No.